Aperta veneria reale, la campagna elettorale del Partito Democratico, con il candidato al Senato Stefano Esposito e il candidato alla Camera Umberto Dottavio. Speriamo proprio dalla città dove 5 stelle amministrano in questa zona. Noi partiremo proprio da quello che i cittadini hanno già verificato. C'è molta differenza tra un'amministrazione di centro-sinistra e un'amministrazione 5 stelle. Qui regna l'immobilismo come a Torino. Noi ovviamente da qui per partire dal fatto che c'è bisogno di un progetto di sviluppo, le cose importanti fatte a Torino e in questa zona, con Legno, Grugliasco, con Università, Arrivoli con il Castello, la Regia di Venaria, lo Scalo di Orbassano, sono tutte grandi infrastrutture realizzate grazie ai progetti del centro-sinistra. Quindi noi chiederemo in questi giorni ai cittadini di questa città, di riconsegnarci la loro fiducia per continuare a valorizzare questo territorio e a fare come abbiamo fatto in questi anni, portare qui progetti importanti. Il prolungamento della metropolitana da Collegno-Cascinevica, i soldi per gli asili nido, i finanziamenti per le periferie. Questo fa il centro-sinistra. Progetti e cose concrete. Grazie a tutti.